Una volta pubblicati tre o più libri, si ha la possibilità di metterli insieme in un cofanetto e pubblicarli come un prodotto unico. Ma ne vale la pena? Ciao, io sono Michele Amitrani, benvenuti ad un nuovo episodio qui su Credi Nella Tua Storia. Oggi parliamo di cofanetti e se vendere, pubblicare e vendere cofanetti, invece di un libro singolo, conviene davvero per un autore autopubblicato. Oggi vi parlerò di alcuni aspetti positivi, di quelli che io credo essere degli aspetti positivi quando si va a pubblicare un cofanetto o un box set nella dicitura inglese e per quale motivo credo che in generale, se avete una serie, utilizzare un cofanetto possa essere un metodo utile per aumentare la visibilità e potenzialmente anche i vostri introiti. Io ho scritto e pubblicato diverse serie e anche pubblicato i relativi box set di queste serie, con risultati decisamente positivi. Ovviamente non si può sempre prendere uno stampo e copiare e incollare tutto. Può dipendere molto dal vostro genere, da quello che scrivete, da come promuovete, ma in generale credo che pubblicare box set di una serie sia un vantaggio per autori indipendenti. Uno dei motivi per cui credo sia un vantaggio è che non dovete davvero creare niente di nuovo. La serie è già pronta, il prodotto esiste già, dovete solo dargli una nuova impacchettatura, tra virgolette, e venderlo. È importante che dedichiate del tempo per creare una copertina e parleremo più in dettaglio del motivo per cui credo che dargli una copertina 3D che faccia capire immediatamente al cliente che si tratta di un cofanetto è importante. L'altra cosa che ho notato, specialmente se pubblicate nello store italiano, sto parlando di Amazon in questo caso, noterete che non ci sono moltissimi cofanetti. In realtà, se fate browsing nella lista dei best seller, potrebbe capitare che ne incontrate uno o al massimo due, ma ogni volta che capita questa esperienza di incontrare un cofanetto 3D, solitamente risalta questo prodotto perché è diverso dagli altri, quindi fa fermare il lettore e dà più possibilità, ovviamente, se è interessato o interessata, di cliccare e vedere di che cosa si tratta. Un'altra cosa positiva è che un cofanetto, in generale, ha un maggiore valore per i lettori, perché un cofanetto di solito comprende, dai tre ai più libri, di una serie oppure di opere correlate. Inoltre, solitamente, il cofanetto costa di meno rispetto a comprare ogni singolo libro della serie e questo dà un valore aggiunto al prodotto, offre ai lettori quello che possiamo chiamare un valore aggiunto e l'invoia maggiormente all'acquisto. Si possono basare anche delle importanti strategie di prezzo utilizzando un cofanetto, perché, come abbiamo detto, il cofanetto ha un prezzo inferiore rispetto al costo combinato della serie e questo può attirare una certa tipologia di lettori che magari vogliono risparmiare a comprare questo cofanetto. Questa è una strategia che può risultare nell'aumento delle vendite di quel volume e quindi di un aumento del ricavo per l'autore. Un'altra cosa importante di cui non si parla spesso, questo è vero specialmente se il vostro libro è iscritto a KDP Select, quindi voi potete beneficiare anche delle royalty provenienti dalle pagine lette. Avere un cofanetto tutto in un prodotto incoraggia non solo il lettore a finire la serie, perché ha pagato tutto il cofanetto, quindi ha più interesse a finire tutta la storia. Ma può aumentare il conto delle pagine lette. Se una persona si comprava soltanto il primo libro della serie, poi comprare il secondo, andare sullo store, cliccare, trovarlo, magari cliccare, quella è una barriera di accesso aumentata. Invece col box set si ritrova già il secondo, terzo, quarto, settimo, dodicesimo libro, quindi può continuare senza barriere d'accesso a aumentare le pagine lette. Il cofanetto ha anche un elemento di essere conveniente, più conveniente per il lettore. Questo è un fattore importante perché, come dicevo, prima parlavo di una barriera di accesso, ma per il lettore non doversi andare a ricontrollare se hai una serie di 12 libri, ogni singolo libro, quindi accedere a internet, andare a cercarsi il libro, cliccarlo, comprarlo, magari decidere, forse non lo compro perché magari ne ho già tre o quattro, oppure farsi distrarre da alcuni advertisement sulla pagina. Con il cofanetto tutto questo non succede perché ha già comprato i libri, li ha già nel suo dispositivo e può leggerli senza problemi. Un'altra cosa che ho riscontrato vendendo cofanetti è che è più facile promuoverli al pubblico. E questo proprio per tutte le cose di cui ho parlato fino adesso, di quel valore aggiunto che può dare il box set. E in effetti un prodotto che ha diversi libri e che costa di meno rispetto a tutta la serie, ha già un vantaggio intrinseco per i lettori interessati ad avere un'esperienza unica di lettura e a risparmiare. Quindi ho visto io particolarmente quando promuovo un box set, una cosa come il costo del click è molto minore rispetto a un libro singolo. Ora voglio andare un attimo su Amazon e farvi vedere effettivamente che non ci sono moltissimi di questi prodotti sul negozio e per quale motivo per me risalta questa cosa qui. E magari una cosa del genere la noterete anche voi. Ok, adesso mi trovo su Amazon in modalità incognito nella categoria Best R di fantascienza. E volevo farvi vedere, visto che è una delle categorie in cui io mi cimento, pubblico anche libri di fantascienza, volevo farvi vedere quanti cofanetti ci sono nella top 50 magari, nei primi 50. E qui, come vedete, non è una sottocategoria di fantascienza, ma è proprio la categoria fantascienza su Amazon.it. Ora, per cofanetti io intendo devono essere delle opere che risaltano immediatamente, che si vede che sono un cofanetto, dalla veste grafica, quindi dalla copertina. Quindi noi qui troviamo un esempio in realtà di una trilogia, che è questa qui, Il problema dei tre corpi. E faccio una piccola parentesi. Tra l'altro io questo libro l'ho letto e mi è piaciuto particolarmente, ma è così in alto perché in questo periodo, nel periodo in cui sto filmando questo video, il libro è stato trasformato da poco in una serie Netflix, quindi c'è un bel po' di pubblicità da quel punto di vista. Però vedete, questo, questa è una trilogia, ma io non lo saprei qui se non mi fermo, vado a vedere trilogia, non riesco neanche a vederlo qui dalla copertina, perché come vedete è microscopito. Questo invece è libro singolo. Quindi questo, il primo, non mi ferma, non mi dà la possibilità di capire, ok, questa è una trilogia, o questo è un cofanetto, perché ha una copertina 2D esattamente come tutte le altre. Quindi vediamo qui se ci sono il primo cofanetto che troviamo. Questo qui è, tra le altre cose, il mio cofanetto, quindi ce n'è uno. Vediamo se ce ne sono altri. E io qui non ne vedo nessun altro al momento adesso. Quindi nella top 50 della fantascienza italiana su Amazon.it è l'unico cofanetto, quello che c'è per adesso è il mio. Andiamo a vedere invece una categoria ancora più grossa, che è fantascienza, horror e fantasy. Qui dovrebbero esserci di più di cofanetti. Questa è, come abbiamo detto, la trilogia del problema dei tre corpi. Vediamo se ci sono altre cose che si presentano come una trilogia. Questo abbiamo detto già il cofanetto dell'ognologo. E non ce n'è nessun altro. Adesso però, magari voi potreste dire, ok, io non scrivo fantasy, non scrivo fantascienze, non scrivo horror, magari scrivo un genere più interessante per italiani, come un giallo, un thriller o un romance. Allora, andiamo a vedere in tutta la categoria Kindle Store. Quindi qui stiamo adesso andando a vedere, andremo a vedere adesso, i top 50 di tutto lo store italiano di Amazon. Ok, qui ci troviamo nella top 50, i primi 50 libri venduti su Amazon. Questi sono libri che vendono svariate centinaia di copie al giorno. E vediamo qui se c'è un cofanetto. Fermatemi se ne vedete uno. Questa è la trilogia di cui abbiamo parlato, ma ancora una volta non è un cofanetto. Se io sono un lettore che sta facendo casual browsing, non mi ferma questo qui. Non è un prodotto che pop up, che mi fa fermare, che mi dice, ok, questa è una trilogia. Devo fermarmi e capirlo. Andiamo avanti. Non c'è niente. Andiamo a vedere. Qui siamo oltre i top 50. Siamo andato ai top 100. Vediamo se ne troviamo uno qua. E a meno che non mi sia sfuggito qualcosa, io non ne ho visto nessuno. Ora, questa è una cosa interessante. Per quale motivo? È interessante perché io mi sono andato a vedere lo store invece americano e la quantità di box set lì è molto maggiore rispetto a quello italiano. E questo mi fa pensare, perché lì ci sono autori che vendono non qualche centinaia di copie al giorno, ma a volte anche migliaia di copie al giorno. Quindi questo potrebbe essere del materiale interessante su cui riflettere. L'ultima cosa di cui vorrei parlare adesso, dopo avermi introdotto il fatto che i box set potrebbero essere una buona idea per racchiudere la vostra serie in un prodotto, voglio parlarvi di alcuni suggerimenti e trucchi che ho riscontrato essere veri dopo diversi anni che pubblico libri e diversi anni che pubblico un box set. Assolutamente vi consiglio di creare una grafica 3D per i vostri libri, specialmente se vendete su Amazon. Questo, voglio sottolinearlo, è un consiglio, quello del cofanetto 3D, che vale su Amazon, non su altri store. Su store come Kobo o Apple Books è importante che loro consigliano invece di dare una copertina 2D e non gli piace vedere i cofanetti in 3D. Quindi dovete essere attenti in quale negozio pubblicati. Ma su Amazon, senza ombre di dubbio, vi consiglio di impacchettare la vostra serie box set in 3D. E questo perché il formato 3D aiuta a comunicare istantaneamente e senza alcuna parola, ma neanche senza scrivere niente sul titolo o il sottotitolo, ai potenziali lettori che stanno per acquistare più di un libro alla volta. E questo, io ho visto, è il modo in cui la maggior parte dei cofanetti viene commercializzato negli Stati Uniti, ma anche in altri store molto grossi di Amazon. Un'altra cosa che consiglio è di mettere un indice all'interno del libro che suddivida non solo i diversi libri, ma anche i capitoli dei diversi libri. E questo perché ai lettori fa piacere, se ha un cofanetto che ha 10-12 libri, di saltare da un punto all'altro velocemente. E questo non può farlo senza un indice ben strutturato. Quindi vi consiglio nella fase di formattazione di fare attenzione a come create il vostro indice per rendere l'esperienza di lettura del cliente migliore. Un'altra cosa che ho notato, e questo vale più in mercati più grandi come quello inglese o quello americano, ma in generale quando avete un cofanetto vi consiglio di fare targeting di altri cofanetti, non di libri singoli. Quindi quando state utilizzando Amazon Ads, per esempio, e state pubblicizzando un cofanetto, potete mirare all'Asin, per esempio, di altri cofanetti. Cercate di trovare autori o serie che presentano cofanetti, ovviamente del vostro genere, perché così quando il vostro libro apparirà nel nastro dei prodotti sponsorizzati, quindi magari o Sobot o Also View o nei risultati di ricerca, si troverà vicino a box set, a cofanetti simili. E un'altra cosa importante da ricordare è che a volte i lettori che si vanno a cercare un cofanetto di solito hanno il Kindle pieno di cofanetti, quindi sono interessati a quel formato specifico per leggere i loro libri. Ultima cosa che ho trovato essere molto importante, quando create un box set, non fate semplicemente che mettete le storie insieme e le vendete. Potete farlo, certo, semplicemente mettete le storie insieme, dagli una nuova quarta di copertina, una nuova estegrafica e via, pubblicate. Però io personalmente vi consiglio di creare un'esperienza migliore per il cliente dandogli del contenuto aggiuntivo. Nel mio cofanetto che avete visto brevemente quando stavamo facendo browsing su Amazon, io non ho semplicemente dato i libri del box set, ho anche creato un capitolo aggiuntivo mai visto da nessun'altra parte che soltanto le persone che compravano quel box set potevano leggere. Quindi ho dato del materiale speciale che solo le persone che compravano quel prodotto potevano leggere. Quindi vi consiglio di fare una cosa del genere, di dare un qualcosa di speciale a questo nuovo prodotto per fare in modo che magari i vostri fan che hanno già comprato la serie e i libri singoli magari sono interessati a sostenervi e comprano anche la versione box set per chi ha quel materiale aggiunto. Ora abbiamo detto che pubblicare un cofanetto è sicuramente una buona strategia per aumentare la visibilità della vostra serie. Però per fare in modo che funzioni dovete necessariamente accoppiarla con una robusta attività promozionale. Se volete saperne di più su come promuovere efficacemente libri vi consiglio di andare a vedere il video in sovraimpressione.